Oggi vi faccio vedere come salvermi insieme questo tavolo di marmo a una vecchia vetrificatura che toglieremo con un font termico oppure con l'utilizzo di un ferro da stiro Mi raccomando, spatola e asportiamo l'eccesso, tutto ciò che viene via, un vero spettacolo Ora levigo, uso una carta 220 per far sì che la superficie sia bella liscia Ora stendo una mano di pepper blue sulla base e dopo di che una seconda mano per rifinire al meglio il colore Stendo poi il protettivo sulla superficie per satinare il tutto Diventerà omogeneo e vellutato Coccolo poi il marmo, uso il protettivo satinato e spugna, in questo modo non ci saranno più segni Il risultato è omogeneo, liscio ed impeccabile Una lastra di marmo che è arrivata perfettamente integra al giorno i nostri Mi raccomando, non buttate i vecchi mobili, restaurateli Seguite il mio canale Elisa MG Paint su YouTube per altri tutorial Ciao! Ciao!